Buonasera a tutti e bentornati. Oggi finalmente iniziamo l'ultimo argomento, l'ultimo macro argomento del corso, come già previsto, è quello delle simulazioni ad eventi, che più correttamente parleremo di simulazioni ad eventi discreti. Cerchiamo di capire perché abbiamo pensato di affrontare questo argomento che, diciamo così, racconta una certa tipologia di algoritmi, forse un po' sconnessi dal resto del corso, ma riteniamo che siano particolarmente utili nei scenari in cui vi dovete trovare a confrontare in futuro. In particolare parliamo del processo decisionale, cioè molto spesso l'ingegnere gestionale deve prendere decisioni, del gestire delle operazioni, dirigere dei progetti, in cui a un certo punto occorre valutare, diciamo così, quale sia la migliore alternativa tra una serie di alternative possibili, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista strategico. Il problema è che i metodi, diciamo così, esatti di calcolo, i metodi di analisi anche basati su modelli numerici, spesso o sono molto approssimati o sono molto complessi e quindi diventa molto difficile prendere decisioni sulla base di valori calcolati e valori determinati da un modello decisionale che ci possa capire se l'ipotesi A sia più conveniente dell'ipotesi B o viceversa. Allora in questi casi, quando non è possibile o non è conveniente trovare una soluzione diciamo esatta, allora si può fare affidamento su un meccanismo basato sulla simulazione, ossia si valutano, si simulano vari scenari possibili e poi si sceglie quello che dall'esito della simulazione, diciamo così, sembra promettere meglio. Questo permette di costruire o di lavorare con dei modelli del sistema che siano più semplici da usare perché semplicemente devono simulare l'evoluzione del sistema nel tempo anziché essere, diciamo così, invertibili per poter calcolare un valore di massimo. Quindi se vogliamo, diciamo così formalmente, la simulazione è il processo attraverso il quale si progetta il modello di un sistema reale. Qui noi abbiamo un sistema reale, vogliamo prendere una decisione che pertiene, che è pertinente al sistema reale, che avrà un impatto sul sistema reale, non lo possiamo fare e allora costruiamo un modello di questo sistema reale e facciamo degli esperimenti con questo modello. Non possiamo cominciare a costruire dei ponti per vedere quale stia in piedi meglio, costruiremo dei modelli dei ponti, magari via simulazione ne faremo crollare molti e poi troveremo quello che ha il compromesso migliore. Adesso con il caso dei ponti probabilmente è un po' limite perché in quel dominio specifico in realtà esistono dei modelli di calcolo che ti permettono di prevedere già prima se il ponte reggerà oppure no, però per strutture più complesse o per strutture più dinamiche come quelle con cui abbiamo a che fare nei sistemi socio-economici il modello di calcolo non ce l'hai essenzialmente o non è sicuramente esatto. E quindi questa simulazione la facciamo con che scopo? Nello scopo di comprendere il comportamento del sistema reale, ovviamente nei limiti della qualità del modello che abbiamo costruito, più il modello sarà curato, più modellerà bene il comportamento reale del sistema. E quindi comprendere meglio il comportamento del sistema attraverso il suo modello che lo approssima e quindi ci può permettere di valutare la bontà di varie strategie o di criteri di valutazione che possiamo avere pensato, valutato, sui quali stiamo cercando di prendere delle decisioni. Quindi un strumento di simulazione non è uno strumento che mi dà una risposta, mi permette però di giocare col mio sistema o meglio con un modello del mio sistema e giocando, provando a variare i vari parametri mi permette di ottenere una conoscenza migliore di quello che può essere del comportamento reale del sistema e quindi di tarare quello che sia la quantità ottima verso cui orientarsi. Quindi in qualche modo esploriamo degli scenari, abbiamo simulazioni che simulano a partire dai dati, magari abbiamo dei dati raccolti dal campo e attraverso questi dati simuliamo degli scenari. Quindi abbiamo un algoritmo che simula, dato uno scenario di partenza, quelli che potrebbero essere i risultati, questi risultati vengono osservati da un utente, il quale poi magari modifica lo scenario, aggiunge, toglie qualche cosa per vedere come cambiano i risultati. E questo processo di osservazione dei risultati, modifica dello scenario per ottenere risultati nuovi a seguito dell'osservazione, dell'anasi e del ragionamento sul risultato ottenuto, di fatto permette sia l'esplorazione che anche la comprensione del sistema, ovviamente fino a quanto l'algoritmo riesce a simulare il sistema vero. Quindi questo è un sistema, è un meccanismo abbastanza semplice per permetterci di riuscire a comprendere meglio il comportamento di un sistema. Ovviamente simulare, ovviamente vuole anche dire spendere del tempo sia nel costruire il modello che poi anche nell'eseguirlo, nel farlo funzionare, questo ovviamente può avere dei tempi di calcolo che magari non sono banali, soprattutto la costruzione del modello molto spesso è ad hoc, su misura, se io voglio simulare quel sistema, costruisco un modello opposta, questi modelli difficilmente sono riutilizzabili. Quindi costruiamo non un simulatore generico, ma un simulatore per quel fenomeno specifico. In ogni caso, l'ultima la decisione finale spetta sempre comunque all'uomo, spetta sempre comunque al decisore che analizzando questi risultati, sì, ho un aiuto, ma alla fine la decisione finale spetta a me. Dopodiché c'è anche il problema di quanto il modello, diciamo, sia troppo customizzato su una soluzione speciale, ad esempio facciamo un modello sulla circolazione del traffico nella città di Torino, allora se questo modello è troppo legato alla soluzione della città di Torino, non si potrà applicare, che ne so, alla città di Milano. Allora abbiamo fatto un modello che chiamo troppo ristretto, che fa previsioni in un ambito troppo ristretto, non è generalizzabile, non è utilizzabile in senso più ampio, quindi non si può, facciamo così, ripetere la sua esecuzione in altri contesti che non siano esattamente quello per cui è stato pensato. Però è uno strumento, è uno strumento come tanti che abbiamo a disposizione e se volete ce ne sono anche di semplici, nel senso che se voi prendete Excel e ci mettete dentro dei calcoli, come magari molti corsi insegnate a fare, ci mettete dentro delle formule e siete in grado di fare quella che, diciamo, molto banalmente chiamiamo l'analisi what if, cambio qualcosa e vado a vedere se cambiassi questo, come cambia il risultato. Molto banalmente l'abbiamo già fatto sicuramente tutti mettendo in Excel i voti dei nostri esami e proviamo a cambiare un voto e vediamo quanto cambia la media. Questo è un modello molto molto semplice, ovviamente, totalmente deterministico, totalmente aritmetico, però il tipo di analisi, proviamo a cambiare questi voti e vediamo come cambia il risultato, è proprio nella mentalità di una simulazione. Quindi a volte bastano essenzialmente strumenti di calcolo come i fogli di calcolo, chiaramente sono molto artigianali, non ci permettono di tenere traccia degli esperimenti che facciamo e così via. Oppure esiste un mercato di prodotti ad hoc proprio per costruire cose di questo genere, per esprimere, costruire il tuo modello e ovviamente questi prodotti sono diversi anche perché si applicano a tipologie di modelli diversi, ci sono modelli più fisici, dei modelli più economici, dei modelli più finanziari e così via e che sono già in qualche modo predisposti da questo tipo di simulatori. E quindi ci sono già prodotti commerciali che ci permettono di facilitare già tutta la gestione dell'esperimento e la costruzione del modello. Quello che impareremo a fare noi invece sarà di scriverci il nostro personale simulatore. Quindi su alcuni scenari di esempio creeremo un'applicazione Java che simulerà quello scenario e ci permetterà anche appunto di giocare con i vari parametri per ottenere, per osservare vari tipi di risultati. Ovviamente qui parliamo di simulatori in senso molto ampio, ciò su cui noi impareremo a lavorare ovviamente è un dominio un pochino più ristretto. Allora cerchiamo di capire un pochino come si fa a restringere questo dominio. Innanzitutto un simulatore si può distinguere sulla base di queste tre dimensioni. La prima dimensione è la deterministicità o viceversa la stocasticità della simulazione. Cioè un simulatore deterministico è un simulatore che mi dà sempre lo stesso risultato. Mi calcola sempre lo stesso risultato. Un simulatore invece stocastico lavora con un modello di evoluzione del sistema che contiene al proprio interno delle variabili stocastiche. A volte diciamo che sono più rappresentative della realtà perché non sapendo esattamente come si comporta il sistema io definisco un comportamento nominale e poi ho uno scostamento, una variazione statistica in più o in meno rispetto a un certo valore. Allora se il simulatore all'interno contiene delle variabili stocastiche, delle variabili casuali, allora ovviamente il risultato calcolato non sarà uguale ogni volta che lancio la simulazione. Sarà ogni volta sempre diverso e sarà distribuito statisticamente in un certo modo. Quindi da un lato ho un modello che mi tiene in conto maggiormente, più fedelmente, delle incertezze del mondo reale. D'altro canto però mi complica un pochino la vita perché il risultato non può essere interpretato come dato singolo ma come insieme di dati che hanno la loro distribuzione statistica. Abbiamo dei simulatori di tipo statico e simulatori di tipo dinamico. C'è un simulatore statico e un simulatore nel quale la variabile tempo non esiste. Cioè se costruisco un edificio io voglio analizzare la situazione dei carichi, diciamo così, di tipo statico, quando ad esempio non ci sono dei movimenti, non ci sono delle forze esterne eccetera. Allora in quel caso simula il comportamento di una serie di forze e di reazioni senza non interviene il tempo in questo caso. Semplicemente simula una situazione statica. Mentre invece per noi e per voi, perché ciò che ci interessa, sono molto più interessanti i simulatori di tipo dinamico in cui abbiamo una situazione che evolve nel tempo. Praticamente ogni problema di tipo gestionale alla fine è di questo tipo. E come ultimo aspetto c'è la gestione nel caso di simulatori dinamici se questi siano di tipo continuo o di tipo discreto. Un simulatore di tipo continuo è un simulatore nel quale le variabili in gioco e in particolare la variabile tempo possono assumere tutti i numeri reali, tutti i valori reali. Quindi ovviamente se stiamo calcolando una simulazione di un pezzo meccanico, della deformazione di un pezzo meccanico, una serie sulle citazioni, ovviamente mi serve un modello di calcolo continuo perché devo tener conto di tutte le possibili forme intermedie. In molti altri casi invece mi è sufficiente una simulazione di tipo discreto in cui ad esempio andiamo a osservare il sistema solamente una volta al giorno, una volta alla settimana, quando cambia qualcosa. Se è un sistema per la gestione delle code delle persone all'ufficio postale, allora non mi interessa sapere esattamente in che centimetro si trova una persona in un determinato momento. Mi interessa sapere quante persone ci sono dentro, quante è lo sportello, quante sono fuori e quindi il sistema evolve in momenti discreti, cioè in momenti specifici in cui succede qualcosa di interessante. In tutto il resto del tempo succedono cose ma non sono interessanti ai fini del nostro modello. Questa approssimazione del tempo discreto semplifica di molto perché a questo punto dobbiamo simulare un sistema non più attraverso delle equazioni differenziali, degli integrali che sono necessarie nel mondo continuo, ma solamente più attraverso dei salti evolutivi. Quindi qui, visto che noi non facciamo matematica, non facciamo equazioni differenziali, ci occupiamo proprio di una simulazione ad eventi discreti, discrete event simulation. Quindi in questa lezione impareremo a conoscere questi tipi di simulatori che sono dinamici e quindi misurano, valutano l'evoluzione di un sistema al passare del tempo e discreto, dove il tempo è concepito come una variabile discreta. Vuol dire che lo stato del sistema, o meglio lo stato del modello che facciamo del sistema, perché il sistema vero non ce l'abbiamo, cambia solamente in punti specifici nell'asse dei tempi. Quindi il nostro asse dei tempi, poverino, ce lo immaginiamo con una linea retta, con tutti i numeri reali, ma di questo asse dei tempi ci interessano solamente alcuni puntini selezionati. Tutto il resto non ci interessa. Quindi selezioniamo alcuni punti chiave all'interno dell'asse dei tempi nei quali avviene qualcosa e lì vogliamo capire cosa succede. In tutti gli altri istanti del tempo non esistono di fatto nel nostro simulatore, perché lì non succede nulla di interessante, non cambia lo stato del sistema, lo stato del modello che stiamo gestendo. Il tipo di simulatore che vedremo può essere sia di tipo deterministico sia di tipo stocastico, nel senso che ovviamente nella costruzione del modello useremo o non useremo delle variabili casuali e quindi lo potremo costruire. Il tipo di approccio che impareremo nella costruzione dei simulatori permette, diciamo così, entrambe le situazioni, quindi sia quelli deterministici che quelli un pochino più randomici. Ovviamente partiremo dagli esempi più semplici, che sono quelli più di tipo deterministico. Allora, il sistema che cosa fa? Alla fine gestisce, in un sistema a tempo discreto, la chiave di tutto è la gestione di una lista di eventi, cioè un elenco di cose che avvengono, che succedono. Quindi il simulatore ha una lista di eventi futuri, cose che so che succederanno a un certo tempo nel futuro. E questa lista vive, essenzialmente. Eventi nuovi vengono aggiunti, eventi precedenti vengono, diciamo così, vissuti, analizzati, ne vengono analizzate le conseguenze. Quindi tutto questo è analizzato, è memorizzato in una lista di eventi. In questa lista fondamentalmente ogni evento sarà marcato da un istante di tempo nel quale lui dovrà avvenire. E poi vedremo che il tempo lo potremmo rappresentare veramente come una variabile temporale, non so, un local time, oppure magari semplicemente come un numero intero, che rappresenta un numero d'ordine. Questo dipende chiaramente dal tipo di precisione che vogliamo ottenere e dal tipo di modello che stiamo facendo. Ma in ogni momento è sempre possibile conoscere qual è il primo evento che succederà. Quindi adesso io vivo in una certa marcatura temporale, 10, so che possono essere 10 millisecondi, 10 anni, oppure 10 come numero generico, io so che il prossimo evento succederà alla marcatura temporale 18, ad esempio 18. Allora cosa succede? Succede che il mio simulatore dirà, va bene, visto che sono al tempo 10 e tra il tempo 10 e il tempo 18 non succede nulla, beh il tempo lo facciamo avanzare, saltare direttamente al tempo 18. Quindi l'orologio salta da 10 a 18, non assume mai i valori intermedi. Quando sono sul 18 mi chiedo, e adesso che sono al 18, che cosa succede? Ed è qui ovviamente che entra in gioco l'algoritmo di simulazione. Che cosa succede? Analizzo, se qualcuno mi ha detto che c'era un evento significativo al tempo 18, vuol dire che questo evento cambia qualcosa. È arrivato un cliente, è andato via, si è guastata una macchina, qualche evento diciamo così che rappresenta un avvenimento significativo nel sistema di cui vogliamo valutare gli effetti. Questo evento al tempo 18 potrà causare magari a cascata altri eventi ai tempi successivi. Chiaramente un evento in un certo tempo non potrà mai causare altri eventi nel tempo precedente. I modelli che vogliamo costruire sono modelli causali, scusate non casuali, causali, dove vale il rapporto di causa-effetto. E quindi una causa al tempo 18 potrà solamente avere effetti a tempi maggiori di 18, tempi successivi. E quindi ogni volta che avvaluta un evento, questo evento potrebbe inserire dei nuovi eventi nella lista di eventi, ma sempre ovviamente nel futuro. Questi eventi quindi ne scatenano altri in una cascata, diciamo così, di effetti per ogni singola azione. E queste vengono sempre mantenute ordinate perché io in ogni momento il simulatore dovrà sapere quale sarà il prossimo evento da gestire. E siamo freschi di memoria sulle code prioritarie. Ovviamente questa lista degli eventi non è propriamente solo una lista, ma sarà rappresentata ovviamente tramite una coda prioritaria che mi permette di inserire eventi futuri con qualunque marcatura temporale, ma che mi permetterà sempre, rapidamente, in modo efficace, di ottenere, di estrarre l'evento che ha la marcatura temporale più piccola, cioè il prossimo evento da considerare. Quindi in qualche modo, se vogliamo rappresentarlo graficamente, il nostro simulatore un pochino somiglierà a una cosa di questo genere. Cioè io ho un nucleo di simulazione qua sotto, che contiene gli algoritmi, che rappresentano, diciamo così, il modello che simula l'evoluzione del sistema, e questo si appoggia sulla struttura dati, questa coda prioritaria, che noi chiamiamo lista degli eventi. Allora l'interazione tra il simulatore vero e proprio e la lista degli eventi è relativamente semplice in questo modello. Cioè il simulatore avrà bisogno sempre e solo, ogni tanto, quando ho finito di valutare le conseguenze di un evento, di chiedere alla lista prioritaria dimmi qual è il prossimo evento. E la coda prioritaria glielo potrà dare. E contemporaneamente il simulatore, in ogni momento, potrà decidere che ha bisogno di schedulare, di inserire, prevedere per il futuro, nuovi eventi. Quindi può scrivere nuove cose all'interno della lista degli eventi. Quindi la lista degli eventi è una sorta di taccuino, una delle cose che dovranno succedere, taccuino che viene, attraverso l'algoritmo della coda prioritaria, viene mantenuto sempre ordinato, in modo che ogni qualvolta abbiamo finito di simulare un'azione, passiamo immediatamente a quella successiva e quindi passiamo immediatamente alla prossima marcatura temporale nella quale avviene qualcosa di interessante. ovviamente il simulatore dovrà simulare un modello e questo modello evolve nel tempo e quindi quasi sempre il simulatore gestisce anche un cosiddetto stato del sistema. Io qua lo chiamo, in questa slide, lo stato del mondo, lo stato della parte di mondo che viene simulata da noi. Quindi se immaginiamo un sistema che gestisce le cose delle persone, lo stato del mondo è rappresentato dalla variabile che indica quante persone ci sono in coda, molto molto banalmente. Questo stato è una variabile, in realtà sarà un insieme di variabili che rappresentano la fotografia del sistema in un determinato istante di tempo. Quindi noi abbiamo il sistema che leggendo le variabili di stato si descrive, ci dice che cosa sta facendo in quel momento, qual è la sua situazione. Le variabili di stato, come dice il nome, sono una fotografia istantanea dello stato del sistema. Come si trova il sistema in questo momento? Attraverso che cosa lo descrivo? Io se volessi simulare l'effetto di una partita di calcio, lo stato del sistema ovviamente conterrà il punteggio attuale della partita, quali sono i giocatori in campo, quali sono gli infortunati, quali sono gli ammoniti, gli espursi e così via, che sono tutte informazioni che mi dicono due cose. Da un lato mi riassumono cosa è successo nel passato. Se siamo 2-1 è perché prima qualcuno ha fatto due gol. Non mi interessa sapere quando e chi. Io so che siamo 2-1 e quindi riassumo in questo stato sintetico un'informazione parziale di alcune cose importanti che sono avvenute nel passato e contemporaneamente lo stato è anche una base per definire le evoluzioni future, nel senso che se fa un gol o un'altra squadra, allora passeremo a due pari e non a un altro valore. E quindi ogni volta che io valuto l'evoluzione nel sistema, avviene un evento, una squadra ha fatto gol, questo è l'evento, ciò che è successo, la conseguenza è che lo stato del mondo, cioè il punteggio della partita, in questo caso è cambiato. Hanno espulso un giocatore, allora cambia l'elenco dei giocatori in campo e l'elenco dei giocatori espulsi. E quindi noi aggiorniamo costantemente questo tipo di variabili. Lo stato del mondo quindi è di fatto una serie di variabili che noi dobbiamo definire che ci permettono di rappresentare il sistema in un certo istante di tempo. Sappiamo che questo insieme di variabili varierà, è soggetto di evoluzioni, ma varierà solamente in corrispondenza di qualche evento che stiamo simulando. Quindi non solo il tempo va avanti a scatti, ma anche lo stato del mondo va avanti a scatti. Lo stato può cambiare solamente come conseguenza di un evento che stiamo simulando. Quindi abbiamo in qualche modo separato in tre parti il nostro simulatore. L'algoritmo, qua sotto, che mi dice che cosa succede quando avviene qualcosa. E' qui dentro l'algoritmo che c'è scritto che se l'evento è qualcuno ha fatto gol, allora l'effetto è di cambiare il punteggio della partita. Perché qua c'è la logica. Poi abbiamo un insieme di variabili che descrivono il sistema e un insieme di variabili che descrivono il tempo, che descrivono il futuro essenzialmente, che poi verranno via via elaborate, via via simulate. Questo nucleo centrale ovviamente noi lo usiamo per valutare i fenari, abbiamo detto. Quindi tutto questo algoritmo partirà con certi valori di alcuni parametri, che noi chiamiamo parametri di scenario, parametri di simulazione o parametri di ingresso, che ci dicono appunto quali sono le condizioni. Ad esempio nel caso delle code all'ufficio postale un parametro potrebbe essere il numero di sportelli aperti. Allora io posso valutare quale sia il tempo di attesa medio al variare del numero di sportelli aperti. Oppure al variare del fatto che io ci metto un impiegato un po' più svelto e uno invece un pochino più lento. Allora io avrò dei parametri che posso variare, che sono quelli sui quali sto cercando di prendere la mia decisione progettuale e attraverso la simulazione voglio calcolare alcune misure chiave. cioè ad esempio il tempo di attesa medio, la lunghezza massima della coda, il numero di clienti che se ne vanno perché si sono stufati di aspettare o qualunque altro tipo di misura. Quindi alla fine tutta questa macchinetta serve per permettermi di impostare alcuni valori di alcuni parametri e questi sono i parametri che mi interessano e quindi il simulatore dovrà essere costruito su misura per poter gestire questi parametri e non altri e alla fine della simulazione sì io avrò tante informazioni, io saprò esattamente tutti gli eventi che sono successi, che abbiamo simulato, tutte le variazioni delle variabili di stato del mondo tutte le volte che sono state lette, read, tutte le volte che sono state scritte con write ma la maggior parte di queste informazioni non mi serve. Mi inservano essenzialmente delle misure che definisco a priori che sono quelle che voglio osservare. Non mi serve avere sei pagine di dati con una serie lunghissima di eventi simulati. Vabbè, quegli eventi non sono rappresentativi di nulla di reale ma il fatto che ci sono successe certe cose mi permette di calcolare alcune variabili sintetiche che sono quelle sulle quali io poi faccio le mie valutazioni. Quindi se noi la vedessimo come una scatola nera, questo simulatore è una scatola nera che riceve alcuni parametri e fornisce alcune misure stimate ovviamente di efficacia o di efficienza del sistema in funzione di questi parametri. Per farlo ovviamente ha bisogno di prendere un sistema giocattolo simulato, farlo evolvere e osservare come si comporta. Proviamo a scendere un pochino più nel dettaglio di questo motore. Essenzialmente questa lista di eventi che cos'è o meglio dal punto di vista della programmazione come rappresentiamo un singolo evento. Allora la lista di eventi la possiamo immaginare come una lista sapendo, pur sapendo che è una cosa prioritaria quindi è stata organizzata internamente in un modo un pochino più complesso, un pochino più furbo però noi la possiamo immaginare come una lista che contiene una marcatura temporale qui ho indicato semplicemente dei numeri, potrebbero essere dei secondi, dei millisecondi, due settimane degli oggetti di tipo local time, degli oggetti di tipo local day time, dei local date insomma qualche valore che mi permette di rappresentare il tempo e di distinguere il passato dal futuro essenzialmente mi permette di ordinare rispetto alla variabile tempo questi elementi e poi ho degli oggetti di tipo evento. Quindi nel mio programma definirò un oggetto di tipo evento evento 1, evento 2, evento 3 che rappresenta ciò che succede nel sistema e nel sistema magari possono succedere cose diverse cose diverse per cui nella simulazione di code posso avere l'evento in cui arrivo una persona nuova l'evento in cui una persona viene servita, va allo sportello l'evento in cui la persona ha finito l'approvazione allo sportello l'evento in cui la persona esce dal locale oppure l'evento in cui la persona esce dal locale perché si è stufata perché dopo 20 minuti di attesa se ne va sono avvenimenti che sono associati a un certo istante di tempo in cui ciò avviene ma hanno tipi diversi quindi non ci basta avere una lista di numeri al tempo 27 succede qualcosa ma cosa? perché ovviamente in funzione di che cosa succede noi dovremo compiere delle azioni diverse dovremo far evolvere lo stato del sistema in modo diverso quindi come minimo questa lista degli eventi avrà degli oggetti che contengono una marcatura temporale e un tipo di evento e tutta la macchinetta poi parte quando questa lista non è vuota allora il simulatore estrarrà il primo elemento andrà a valutare che in questo caso è al tempo 7 andrà a valutare le sue conseguenze eventualmente la simulazione di questo evento ne introdurrà degli altri nel futuro nel futuro ovviamente simulato non nel futuro reale e la cosa va avanti quindi la simulazione si arresterà quando invece la cosa degli eventi sarà vuota cioè quando se supponiamo che io a un certo punto estragga questo evento al tempo 20 e questo evento a sua volta non inserisca nulla nel futuro e allora vuol dire che questa cosa poi sarà vuota dopo che ho estratto l'ultimo e questo non genera nuovi eventi nel futuro allora non ho più nulla da simulare se non ho eventi lo stato del sistema non evolve e quindi tutto fermo non c'è nulla che lo possa sbloccare a meno che noi non simuliamo anche la generazione di eventi diciamo così stoccastica autonoma ma sono casi particolari ci sono invece altri fenomeni che ne so la simulazione di una situazione meteorologica questa non finisce mai perché ogni giorno è un giorno nuovo quindi la condizione di terminazione non sarà finita la lista degli eventi ma sarà ho simulato 6 giorni perché 6 era l'intervallo di tempo che volevo osservare quindi a volte la condizione di terminazione è data dall'esaurimento della lista degli eventi a volte invece la condizione di terminazione è data dalla aver completamente simulato un certo intervallo di tempo che ci siamo prefissati quindi definiamo a priori qual è l'intervallo di tempo massimo che vogliamo simulare tempo finto, tempo simulato cioè i numeri che stiamo simulando non ha nulla a che vedere con il tempo di orologio che ci mettiamo ad aspettare che il simulatore finisca noi stiamo sempre parlando del tempo all'interno del modello simulato tempo che va avanti a scatti mentre noi invece viviamo immersi nel tempo reale che non ha nulla a che vedere con il tempo della simulazione ovviamente poi io qua ho lasciato aperta la possibilità come invece è molto frequente che l'oggetto evento possa avere anche delle informazioni aggiuntive informazioni aggiuntive nel caso dell'esempio della coda possiamo avere il cliente normale o il cliente premium allora se è entrato un cliente premium poi lui evolverà in modo diverso all'interno degli sportelli passerà davanti agli altri eccetera eccetera invece il cliente normale avrà un'evoluzione diversa per dirne una simulazione della partita di calcio allora io potrò avere quando viene fatto un gol ho l'informazione di chi l'ha fatto quel gol perché può essere interessante può avere impatto scusate sull'evoluzione futura quindi sono questi oggetti che hanno informazione che in qualche modo cerca di descrivere che cosa è successo ma le due componenti chiave che ci saranno sempre sono il tempo e il tipo dell'evento tempo e tipo ci saranno sempre e poi eventualmente altre informazioni allora con questa visione noi possiamo cominciare a strutturare quello che può essere possiamo intendere come lo scheletro del nostro simulatore per ora lo vediamo ancora diciamo così attraverso le slide e poi ovviamente passeremo a realizzare un esempio un primo esempio semplice in cui si vedono queste cose in funzione al lavoro allora questa figura qua è un dettaglio ulteriore rispetto alla figura precedente in cui vediamo abbiamo il nostro simulatore abbiamo una classe chiamante per cui questo simulatore verrà lanciato dal programma main o nel nostro caso molto più probabilmente dal modello dalla classe model della nostra applicazione e questo simulatore ovviamente qui sopra c'è la coda degli eventi contiene un evento, l'altro, l'altro, l'altro tutti belli in fila indiana in ordine ci sarà un oggetto qui ci sarà un oggetto java che rappresenta l'evento un oggetto java che rappresenta la coda quindi la priority queue uno o un insieme di oggetti java che rappresentano lo stato del mondo un oggetto che rappresenta il simulatore e vabbè poi il resto del programma che lo chiama quali funzionalità offre il simulatore all'esterno? beh, visto come scatola nera io dovrò avere un metodo per impostare i parametri quindi imposta il parametro il numero di sportelli imposto il parametro velocità dell'operatore imposto il parametro frequenza di arrivo degli utenti magari a giorno di pagamento delle pensioni quindi arrivano più utenti oppure un giorno normale arriveranno meno utenti e così via imposto i parametri e estraggo le misure quindi dimmi qual è stato il tempo di attesa medio dimmi quante persone se ne sono andate senza poter ottenere servizio dimmi quante persone sono state in coda per più di mezz'ora sono le misure che abbiamo definito a priori quindi questi sono i due metodi principali questo li ho chiamati XXX perché non so ovviamente il singolo simulatore che cosa farà potranno essere più metodi separati nei quali vado ad impostare i singoli parametri magari ho tanti parametri impostabili quindi il simulatore partirà con un suo valore di default e poi invece potrò andare a modificare quel valore di default inserendo i valori che mi interessano mentre tutti gli altri li posso lasciare costanti li posso lasciare senza variare rispetto al valore di base e i valori get measure appunto possono essere uno o più metriche che abbiamo deciso di misurare sul nostro tipo di modello quindi questi che ho chiamato set parameter e get measure sono esattamente la rappresentazione di queste frecce nelle quali si impostano i parametri dello scenario e queste frecce nelle quali si vanno a estrarre al termine della simulazione le misure chiave però ovviamente tra l'impostazione dei parametri e la misurazione dei valori risultanti ci vuole la simulazione va eseguita la simulazione per questo qui ho indicato un metodo run che è quello che effettivamente fa partire eseguire ed esaurire la simulazione stessa quindi in qualche modo il chiamante chi usa il simulatore costruirà la classe simulatore imposterà i parametri quindi una serie di chiamate set parameter poi chiama run e a questo punto poi aspetta che il simulatore lavori deve simulare 12.000 eventi le fa uno dopo l'altro a un certo punto finite e poi dopo che ho chiamato run dopo che il run è terminato posso andare a interrogare il simulatore per conoscere le misure che lui ha calcolato ok? io normalmente dall'esterno non posso vedere ma neanche mi interessa qual è lo stato del mondo lo stato del mondo parte da un valore di partenza magari questo valore di partenza è influenzato da alcuni di questi parametri e poi evolve evolve durante il metodo run man mano che il metodo run esegue quindi la coda degli eventi viene consumata questo stato del mondo viene modificato a me non interessa lo stato del mondo non interessa esportarlo all'esterno mi interesseranno come dicevamo alcuni valori riassuntivi una media, un massimo un conteggio del numero di cose che sono successe all'interno del nostro mondo simulato poi a volte può essere necessario quindi GetMeasure estrae alcuni dati ma lo stato del mondo non è necessariamente visibile all'esterno del simulatore mentre invece in alcuni casi è necessario definire quali sono le impostazioni iniziali del sistema anche dal punto di vista dinamico cioè se io imposto predefinisco lo stato del mondo predefinisco un insieme di parametri e poi facessi run ma se al momento del run questa coda degli eventi fosse vuota allora il simulatore non ha nulla da fare non ha nulla da simulare perché io gli ho detto guarda lo stato iniziale del mondo è questo non capita nulla e quindi quale sarà lo stato finale? se non capita nulla lo stato non può cambiare questa è la nostra ipotesi di base lo stato cambia solo in corrispondenza dell'elaborazione degli eventi quindi in qualche modo è necessario sempre precaricare la coda degli eventi con alcuni eventi di partenza ci sono poi casi diversi in alcuni casi il simulatore ha già una sua logica interna per precaricare la coda degli eventi magari in modo casuale oppure in modo deterministico in altri casi invece è il mondo esterno che precarica attraverso un metodo che il simulatore può offrire un insieme di eventi iniziali ok guarda ti dico all'inizio tu simula una condizione in cui ci siano già queste cose in corso e allora a questo punto magari io ho un modello stocastico di arrivo delle persone in coda e quindi usando estraendo dei valori casuali attraverso il mio modello stocastico inserirò in certi istanti di tempo l'evento che certe persone arrivano e quindi la mia coda degli eventi ha già i tempi di arrivo di un certo numero di persone simulati ipotetici ovviamente se rifaccio la simulazione e questo modello stocastico ovviamente la seconda volta arriveranno persone diverse in momenti diversi però è un'informazione che io posso già inserire come conoscenza pregressa come risultato di fatto un parametro della simulazione mi dice vabbè se questa è la tua probabilità d'arrivo allora ti puoi generare i primi mille eventi ad esempio i primi mille arrivi di persone e poi vediamo come sono distribuiti nel tempo quindi in qualche modo il simulatore prima di partire dovrà preoccuparsi di precaricare mettere un po' di benzina nel simulatore cioè degli eventi all'interno della coda in modo che poi una volta che il ciclo è avviato si possa ripetere si possa autosostenersi perché ogni evento ne genera altri ma devo averne alcuni iniziali questa è in qualche modo l'interfaccia pubblica del simulatore imposto i parametri imposto alcuni eventi iniziali oppure dei criteri attraverso i quali il simulatore possa da solo crearsi degli eventi iniziali avvio la simulazione che partirà dallo stato del sistema che ha determinato i parametri e dagli eventi iniziali che sono stati appena caricati e andrà avanti fino o all'esaurimento della coda o al raggiungimento di un certo limite di tempo che avrò impostato in uno di questi parametri e alla fine potrò estrarre queste misure che nel frattempo avrò avuto l'accortezza di misurare e quindi ogni volta che gestisco un evento devo controllare se questo evento mi modifica uno dei valori che sto cercando di osservare questa è l'interfaccia esterna è l'interfaccia pubblica poi io qua ho scritto un altro metodo che ho chiamato process event l'ho etichettato privato quindi un tipo di evento privato cioè interno al simulatore stesso che sarà poi ovviamente dentro il simulatore lo potete chiamare come volete il metodo ma io l'ho chiamato process event che è il metodo chiave che dato un evento determina che cosa succede quindi è quello che effettivamente simula lo struttore del sistema quindi noi vedremo che questi metodi sono abbastanza standard soprattutto il metodo run è un ciclo che lavora con la coda prioritaria e ogni volta che estrae un evento passa questo evento al metodo process event che lo analizza e decide che cosa fare allora di questa figura la parte più astratta è ancora lo stato del mondo perché è un insieme di variabili delle collection ci potrebbero essere al limite dei grafi che rappresentano lo stato corrente della simulazione stessa l'abbiamo detto più volte così in termini astratti ma poi ovviamente in caso pratico dobbiamo chiederci ma quali sono queste variabili che mi interessa rappresentare e le quali possono evolvere attraverso la simulazione e delle quali mi possa interessare quale sia la loro evoluzione perché mi serve per calcolare le variabili di interesse le variabili chiave di interesse c'è un collegamento bidirezionale tra il simulatore e lo stato del mondo nel senso che lo simulatore nel senso della funzione process event nel senso che quando io elaboro un evento l'effetto di quell'evento dipende dallo stato del mondo se arriva un nuovo cliente e c'è uno sportello libero allora il cliente va direttamente allo sportello viceversa se arriva un nuovo cliente e non ci sono sportelli liberi e il fatto che ci sono sportelli liberi o no sarà scritto nello stato del mondo perché mi descrive come è il sistema in quel momento quindi se invece non ci sono sportelli liberi allora questo cliente si metterà in coda e quindi vedete che il modo in cui viene trattato in cui evolve un evento è diverso in funzione dello stato del mondo questo vuol dire che ad esempio se non arriva più nessuno se non c'è nessuno cioè se c'è lo sportello libero il cliente arriva e io so che il prossimo evento sarà il fatto che l'utente ha finito e torna a casa perché è appena arrivato un altro sportello la prossima cosa che succede è che lui finisca l'operazione del sportello se invece gli sportelli sono tutti occupati e questo me lo diceva lo stato del mondo quando elaboro l'evento l'utente è arrivato dovrò inserire nel futuro un evento del fatto che l'utente esce dalla coda è il prossimo in coda quindi tocca a lui essere servito e quindi il prossimo evento può essere torno a casa oppure finalmente ho finito di stare in coda a seconda dello stato in cui si trova il sistema quando avviene l'evento è arrivato tizio quindi non è colpa dell'evento è colpa dello stato in cui si trova il sistema quando l'evento accade quindi per capire cosa succede quando arriva un evento mi servono due informazioni sempre il tipo di evento più l'informazione associata e lo stato in cui si trova il sistema nel momento in cui l'evento è arrivato combinando le due riesco a capire due cose la prima è come viene eventualmente modificato lo stato del sistema e poi la seconda è quali nuovi eventi futuri dovrò simulare dovrò prevedere di simulare come conseguenza di aver capito che cosa è successo con questo arrivo di eventi questa slide di fatto riassume le informazioni che avevamo già commentato insieme nel grafico precedente quindi questi set parameter che sono dei parametri che influenzano e inizializzano in qualche modo dello stato del mondo non necessariamente posso impostare tutto lo stato del mondo però appunto il numero di sportelli è un valore importante che influenza chiaramente il mio modello del mondo e può essere impostato dall'esterno prima dell'inizio della simulazione ecco questi set parameter questi parametri vengono impostati prima non posso modificare questi parametri mentre la simulazione sta andando avanti queste sono le condizioni del contorno all'interno delle quali ho definito uno scenario e poi simulo questo scenario vado a vedere cosa succede e poi se voglio cambio lo scenario allora sarà un'altra simulazione modifico alcuni parametri e vado a vedere i risultati però durante la simulazione questi sono da intendersi come delle costanti come dei vincoli che mi descrivono il contesto in cui sto simulando e anche il caricamento degli istanti iniziali degli eventi iniziali sono uno o più eventi che precarico nella coda a simulatore fermo quindi io comincio già a dire ma so già per certo che alcune cose succederanno le metto nella coda ma per ora il simulatore non è ancora partito quindi sono degli eventi che aggiungo nella coda in modo un po' sintetico artificiale dopodiché c'è il metodo run che di fatto è molto semplice lui è un bel loop che va avanti fin quando la simulazione non termina e in questo loop ogni volta estrae un nuovo evento della coda se la coda non si è vuotata e chiama il metodo process event per elaborare quel singolo evento che ho appena estratto e poi vabbè get measure è banale perché ci sono solamente dei getter sulle quantità che ho calcolato durante la simulazione il cuore di tutto non è tanto il metodo run sì il metodo run è quello che in realtà fa andare avanti la simulazione ma la parte diciamo così intelligente è questo process event questo metodo process event cosa fa viene chiamato ogni volta che deve valutare l'effetto di un evento questo evento avrà un tipo quindi immaginiamo che l'oggetto evento abbia una proprietà type un attributo type quindi avremo un controllo su get type get type allora il type dell'evento è questo è arrivato il tipo di evento è arrivata una persona oppure il tipo di evento è si è liberato uno sportello oppure il tipo di evento è una persona si è stufata è andata a casa ecco a seconda del tipo di event o farò cose diverse quindi analizzo il tipo di evento e sulla base del tipo di evento e di tutti questi valori quindi i parametri di simulazione il tipo di evento ovviamente lo stato del mondo e eventualmente i valori che questo evento si porta dietro dicevo ad esempio il valore potrebbe essere il tipo di utente utente premium utente normale e quindi è un dato che è scritto dentro l'evento sulla base di tutte queste informazioni la procession di evento decide cosa fare tra questi tre tipi di operazioni che possono essere fatte qui sono tutte indicate come opzionale perché dipende ovviamente da che cosa sto simulando posso fare una posso fare la seconda posso fare la terza posso fare tutte e tre ovviamente devo valutare di caso in caso ma le cose che posso fare che sto valutando se fare sono aggiornare lo stato del mondo aggiornare il numero di persone presenti in coda ad esempio aggiornare il numero di sportelli occupati oppure liberi non quelli totali quelli totali non li posso cambiare perché sono un parametri di simulazione ma quelli occupati o liberi sono conseguenze degli eventi di persone che arrivano e vanno via posso aggiornare le misure di interesse quindi se una persona se ne va anzitempo incremento un contatore che mi misura il numero di persone che se ne sono andate abbandonando se invece una persona termina il proprio servizio e quindi va via soddisfatto io posso tenere conto del tempo che ci ha messo perché magari alla fine voglio avere il tempo medio di attesa e quindi devo avere i vari tempi salvati da qualche parte o almeno la loro somma in modo che poi alla fine della simulazione possa fare la media quindi queste sono tutte operazioni che in qualche modo vanno a modificare delle costanti dei valori diciamo statici sulla base di questo evento e poi c'è l'altra operazione che forse è più importante è che genera nuovi eventi futuri sulla base dell'evento presente quindi io quando valuto un evento sono congelato in un istante del tempo quel 18 di cui parlavamo prima mi sono congelato qua sto cercando di capire visto che al tempo 18 è successa questa cosa quali sono le sue conseguenze e quindi quali sono gli eventi futuri che fino ad ora non conoscevo ma adesso che ho scoperto cosa è successo al tempo 18 posso conoscere e quindi posso prevedere per il futuro il futuro non lo sto predicendo con una sfera di cristallo lo sto costruendo io andando a inserire degli eventi futuri che secondo il mio raggiamento dovranno accadere dovranno accadere come conseguenze di ciò che è accaduto al tempo corrente e questo lo sintetizzo aggiungendo degli eventi alla cosa degli eventi dei nuovi eventi che ovviamente diciamo così per il principio di causalità dovranno necessariamente essere nel futuro quindi con marcature temporali maggiori o al peggio maggiore uguali rispetto al tempo presente al tempo simulato presente e quindi stiamo inserendo degli eventi nuovi nel futuro allora questi eventi poi a seconda del tipo di simulazione li possiamo allineare con alcuni diciamo così periodicità fisse temporali oppure no cosa intendo con questa distinzione ma ci sono alcuni tipi di simulazione in cui io so già quali sono gli istanti di tempo fissi in cui certi eventi accadono in cui certi eventi succedono quindi magari io sto valutando i movimenti di un magazzino giorno per giorno quindi vuol dire che ogni giorno avrò un evento che mi dice quanti colli arrivano e quanti colli escono da questo magazzino e quindi io so già a priori quanti sono gli eventi su dieci giorni ci saranno dieci eventi uno al giorno io decido in realtà il mondo reale non funziona così i pacchi partono e arrivano a tutte le ore del giorno ma il modello che faccio io magari è un modello che lo approssima una volta al giorno e quindi in qualche modo io decido che gli eventi verranno tutti allineati a una certa periodicità quindi c'è un orologio che ticchettando una volta al giorno una volta a settimana una volta al minuto mi dice che in quel istante di tempo dovrà esserci un evento che mi dice che cosa è successo quindi in qualche modo ho un treno di eventi tutti equidistanti che mi determinano un certo tipo di evoluzione nel sistema questi tra l'altro sono facili da generare perché io posso generare sulla base di un modello stocastico oppure di una serie storica che posso avere già acquisito salvato da qualche parte quindi leggo questi dati in un database posso dire vabbè allora simuliamo i prossimi due mesi un evento ogni mese quindi 60 eventi li metto dentro la coda subito all'inizio prima della simulazione quindi per questo era facile precaricare la coda degli eventi in casi come questi oppure ho degli eventi non so a priori quanti saranno non so se saranno 60 per 60 giorni allora posso avere una tattica un pochino più strana in cui ne inserisco uno solo cioè il domani e quando estraggo l'evento domani inserisco il dopodomani quindi ogni volta inserisco quello dopo ma tanto è un meccanismo semplice in questo caso perché solo esattamente che ogni volta che ne estraggo uno dovrò generarne uno 24 ore dopo oppure un mese dopo oppure quello che stiamo facendo quindi in qualche modo sono sistemi nei quali tutte le volte che ho un tick un tickettio del tipo di orologio che ho impostato succede qualche cosa questa può essere una base tempi costante che simula un'evoluzione di base nulla vieta però che in un sistema di questo genere possano avvenire degli altri eventi che magari sono inseriti in un secondo momento come conseguenza dell'elaborazione dei primi che sono invece inseriti a tempi arbitrali su valori di tempo anche diverso non è vietato non è un problema però questi sistemi si contrastingono proprio per un orologio fisso un metronomo che determina che una serie di eventi sicuramente si verificherà a intervalli di tempo regolari può anche capitare che in uno di questi eventi non succeda nulla perché magari domenica mattina non è arrivato nulla in magazzino ci sarà l'evento e che avrà come valore associato zero quindi in qualche caso stiamo elaborando un evento che c'è perché ci serve per in qualche modo aver impostato in un certo modo la gestione del tempo e questo evento non cambierà per nulla non cambierà il tempo lo stato del mondo non cambierà le misure di interesse e non genererà nuovi eventi vabbè può capitare invece in un modello del tempo tipo asincrono io genero degli eventi solamente quando qualcosa succede e quindi questi eventi potranno essere magari molto vicini poi magari passa una settimana e non succede nulla poi per un altro periodo di tempo ci sono degli eventi molto ravvicinati cioè non c'è nessuna regolarità nella marcatura temporale con cui questi eventi verranno inseriti possono essere inseriti semplicemente sulla base delle previsioni degli istanti di tempo in cui succederà qualche cosa quindi possono capitare in qualunque istante di tempo e quindi in qualche modo abbiamo un orologio un pochino strano che non va avanti per ticchetti regolari ma va avanti per ticchetti irregolari a volte fa 10 tic piccoli perché ho tanti 10 eventi vicini e poi la mia lancetta fa un salto molto grande e passa direttamente due giorni dopo questo non è normalmente un problema dal punto di vista del simulatore sono semplicemente una scelta che facciamo noi nel gestire il tempo in certo senso gestire di come distribuire gli eventi nel tempo è una scelta che facciamo noi ma in realtà è più forse una scelta del tipo di modello che stiamo cercando di simulare se ha una sua cadenza interna oppure se semplicemente è libero e forse è più difficile pensare ai sistemi di secondo metodo di secondo tipo quelli asincroni diciamo così progettualmente mentalmente perché dobbiamo concentrarci non tanto sul passare del tempo che quello è facile ma sul avvenire a cadere di certi eventi e quindi in qualche modo devo sforzarmi di più per riuscire a definire quali sono a trovare scoprire quali sono gli istanti di tempo in cui accade veramente qualcosa però in realtà nel nostro caso saranno quasi la maggior parte di modelli di questo tipo dal punto di vista della programmazione non cambia nulla non è che sia più difficile uno o l'altro è semplicemente un modo diverso di ragionare di appocciarsi al problema di costruire il modello analogamente sempre parlando di diversi tipi di modelli esiste la differenza tra modelli deterministici e modelli stocastici l'abbiamo già accenata prima ma proviamo a calarla nel nostro nel nostro scheletro di programma cosa vuol dire un sistema deterministico vuol dire che innanzitutto se io ripeto la stessa simulazione con gli stessi parametri iniziali e quindi anche con gli stessi eventi iniziali otterrò necessariamente lo stesso identico risultato gli eventi che entreranno nella coda degli eventi saranno gli stessi gli eventi che verranno estratti saranno esattamente gli stessi nello stesso ordine e i nuovi eventi generati saranno esattamente gli stessi cioè una simulazione perfettamente ripetibile è perfettamente ripetibile se tutte le elaborazioni interne nella simulazione sono essere stesse deterministiche cioè non determinate da variabili stoccastiche o casuali e quindi potrò avere delle soglie dei confronti delle scelte ma queste scelte avvengono sempre nello stesso modo perché i dati su cui lavorano sono sempre gli stessi questo è un modello chiaramente più semplice a volte più presuntuoso perché mi dice guarda tu sai esattamente cosa succede mentre in realtà nel mondo possono esserci degli imprevisti però è il modo più semplice essenzialmente viceversa possiamo avere questi modelli stocastici cioè all'interno dell'evoluzione del modello ci sono delle variabilità vuol dire che quando io imposto un valore questo valore sarà noto magari a meno di un più o meno 10% oppure quando inserisco dicevamo prima l'utente premium ogni volta che arriva un nuovo utente questo potrà essere con la probabilità del 10-15% un utente premium e quindi con la probabilità dell'85-90% e questo valore 85-90% è un parametro di simulazione potrà essere l'85-90% dicevo un utente normale quindi ogni volta che genero un evento del tipo arrivo un utente dovrò estrarre un numero casuale per dirmi se questo sarà un utente premium o un utente normale e quindi ogni volta che ripeto la simulazione a quel punto estrarò dei numeri casuali diversi e quindi avrò un mix di utenti diversi che arrivano con certa cadenza temporale ma loro sono composti in modo diverso e magari a seconda di queste composizioni ovviamente il mondo può evolvere in modo diverso sicuramente evolverà in modo diverso allora dove è che la metto questa casualità dove è che li metto questi variabili stocastiche beh questa variabilità stocastica può essere sicuramente nella impostazione iniziale io creo gli eventi iniziali ipotizzando che arrivi una persona di 10 minuti eh ma una persona di 10 minuti è troppo no irrealistico che arrivano esattamente cadenzati alle 8.00 alle 8.10 0.00 alle 8.20 0.00 e così via quindi potremmo dire magari che arrivano con un certo tipo di distribuzione con una distanza media media di 10 minuti con una distribuzione non so quassoniana oppure gaussiana che quindi la distanza tra l'arrivo delle varie persone non è costante ma è una variabile casuale con una certa distribuzione e con un certo valore medio allora a questo punto quando creo gli eventi iniziali li creerò in modo da darmi una sequenza temporale che abbia le caratteristiche statistiche che mi piacciono ma che non sarà mai due volte la stessa non sarà mai uguale a se stessa quindi questo è un primo elemento in cui possiamo introdurre delle variabilità la creazione degli eventi iniziali ma anche la scelta a volte dei parametri di simulazione iniziali oppure posso avere una certa casualità nell'elaborazione degli eventi che è il secondo caso cioè magari stiamo pensando della gestione di un macchinario industriale ecco quando avviene una certa operazione col 10% di probabilità questa operazione può andare male cioè la macchina costruisce un pezzo non funzionante oppure la macchina può avere un guasto o cose di questo genere allora chiaramente non ha senso simulare una macchina che non fa mai errori sarebbe una simulazione deterministica ottimistica non ha neanche senso simulare una macchina che sbaglia sempre o che no perché non sarebbe una simulazione del tutto inutile e neanche una macchina che sbaglia esattamente un pezzo ogni 100 quindi ne fa 99 giusti e uno sbagliato questo sarebbe molto molto irrealistico sarebbe un'approssimazione molto molto brutta e brutale della realtà più vicino alla realtà invece dire una macchina che sbaglia con una certa probabilità probabilità che sarà quasi sicuro uno dei parametri della simulazione uno degli impostazioni dello scenario e allora vuol dire che quando io ho un evento e l'approssimazione deve elaborare quell'evento a parità di evento e a parità di stato del mondo la simulazione può prendere due strati diverse perché se sono nel 90% dei casi normali quell'evento viene elaborato in certo modo se sono nel 10% dei casi anomali quell'evento viene elaborato in modo diverso e quindi genererà eventi futuri diversi e quindi avrà un flusso diverso sullo stato del mondo e quindi influenzerà in modo diverso le variabili calcolate dalla simulazione quindi questo è un secondo tipo di casualità che è dentro la processivente la processivente a un certo punto ci sarà un if se un certo numero casuale è maggiore o minore di una certa soglia allora faccio cose diverse e quindi la variabilità non è nello stato iniziale ma è nell'evoluzione a partire dello stato iniziale ovviamente queste due cose sono indipendenti posso avere casualità nello stato iniziale e determinismo nell'evoluzione o stato iniziale deterministico e evoluzione casuale oppure entrambi casuali è chiaro che più introduco non determinismo più il modello ovviamente si complica ma forse riesce in alcuni casi a modellare meglio le incertezze alla fine poi le variabili casuali che cosa servono? servono a nascondere una complessità che non vogliamo trattare perché io potrei sapere esattamente a che ora arrivano tutte le persone se sapessi a che ora hanno messo la sveglia quando fanno colazione dove sono andate cosa devono fare prima ma mi serverebbe un milione di informazioni che non ho e che non voglio ottenere allora faccio prima direbbe più o meno in media arriveranno con questa frequenza e quindi nascondo dietro una casualità in realtà un modello che magari dentro è deterministico ma è deterministico con così tante variabili con così tante altre informazioni che preferiscono non conoscere quindi dal mio punto di vista di scatola nera mi sembrano variabili casuali quindi non è detto che siano veramente fenomeni casuali magari sono fenomeni deterministici che io tratto in modo casuale per semplicità di modellazione per non dover andare a modellare tutta un'altra cosa che non è il focus della mia simulazione oggi ricordiamoci cosa serve su un attore a prendere decisioni strategiche non a simulare l'universo atomo per atomo non mi interessa spendere più energie nel cercare di essere più preciso in parti del modello che in realtà non mi interessano perché non sono quelle sulle quali sto cercando di ragionare ma allora cosa succede quando io una casualità una randomicità una stocasticità o nello stato iniziale o nell'evoluzione del sistema beh banalmente che se ripeto la simulazione una seconda volta otterrò un risultato diverso poco diverso o tanto diverso beh questo dipende dalla stabilità diciamo così di funzionamento del sistema anzi può anche essere una cosa interessante capire quanto può oscillare il risultato calcolato il sistema per effetto diciamo come conseguenza delle fluttuazioni statistiche del valore degli stati iniziali oppure dell'evoluzione degli eventi stessi però questo mi dice una cosa che il valore che estraggo da una singola simulazione di per sé non è rappresentativo quindi ogni volta che ho un modello di tipo stocastico normalmente il valore che devo osservare delle mie variabili di interesse non è il valore della prima simulazione ma se ne fanno un certo numero quindi si ripetono le simulazioni so che ogni volta che la ripeto otterrò un numero diverso e poi magari fornisco la media e la deviazione standard del valore misurato quindi se abbiamo un modello stocastico è buona norma non fornire mai il risultato di una singola simulazione ma ripetiamo un gruppo di simulazioni che ne so 10 e ti do la media sulle 10 calcolate perché la singola potrebbe essere fuorviante verso l'alto verso il basso verso il più verso il meno perché ovviamente proprio per ragioni casuali può capitare che l'unica simulazione che abbiamo fatto sia proprio quella più sfortunata oppure quella più fortunata e beh no facciamo un po' di simulazioni così ci rendiamo conto di qual è il caso medio il caso normale poi magari possiamo anche attenere traccia di quali sono gli intervalli di variabilità minimo e massimo per capire ok ma il caso normale sono 8 minuti di attesa ma il caso peggiore è 48 minuti allora non va bene se il caso normale è 8 il caso peggiore è 12 vabbè ci stiamo insomma se è capitato un giorno sfortunato ma non è una cosa così radicalmente diversa così tragica quindi in qualche modo ci permettono sistemi stocastici di esplorare un pochino meglio le modalità di evoluzione del sistema al costo chiaramente computazionale maggiore perché dovrò fare più simulazioni per riuscire a avere un range dinamico maggiore e poi ovviamente è chiaro che la scelta del modello stocastico da usare è anche deve essere anche rappresentativa delle reali condizioni della parte di mondo che stiamo modellando quindi non mettiamo solamente variabili casuali così a caso penso con distribuzione uniforme o distribuzione gaussiana perché magari non rappresentano la realtà dei fatti e quindi ci rischierebbero di portarci a delle conclusioni sbagliate vedremo poi alcune nel fare esercizi alcune tattiche alcune tecniche proprio di programmazione per gestire diciamo così la funzione random che che finora diciamo così non abbiamo quasi mai usato non è difficile però visto che noi dobbiamo non solamente usare i valori ma magari far sì che questi valori siano distribuiti in un certo modo magari può essere utile approfondirlo un pochino allora all'interno di questo scenario che se vogliamo è riassunto da questa figura che è la figura di riferimento con cui costruiamo il nostro codice dicevamo il model una classe simulatore che essenzialmente offre questi metodi uno o più proprietà che possono essere dentro un oggetto separato oppure possono essere delle variabili private del simulatore per gestire lo stato un oggetto coda coda prioritaria e un oggetto evento quindi sono uno due tre quattro tipi di oggetti che dovremmo costruire sono quasi tutte diciamo così molto standard da costruire partendo ovviamente dall'informazione sul sistema che vogliamo modellare e la maggior parte del nostro sforzo andrà a finire dentro questo metodo processivente che invece di volta in volta dovrà essere pensato e studiato per simulare essenzialmente il comportamento di un passo di evoluzione del modello allora questo se vogliamo è l'introduzione più teorica dalla prossima lezione faremo una serie di esempi il primo molto facile didattico ancora sarà un esempio semplicissimo che però eseguiremo passo passo per implementare questo schema generale su un singolo esempio ma per comodità lo spesso in due video diversi essenzialmente quindi il primo esempio sarà proprio l'esempio guida e poi da lì in avanti faremo altri esercizi anche un pochino più complessi per riuscire a vedere le varie modalità di gestione di un'architettura di simulazione di questo genere quindi per ora vi saluto e nel prossimo video appunto vedremo un primo esempio che si basa essenzialmente su un modello molto molto semplificato di un sistema di noleggio di autovetture grazie alla prossima